stiamo andando ragazzi stiamo andando allora aggiornamento aggiornamento nei nostri video ci sono sempre lavori edili in corso non so perché comunque mi viene sempre un po' da ridere allora stanno praticamente sistemando marciapiedi allora io stavo guardando qua in questa via super commerciale non c'è neanche un negozio per animali per mangiare per gli animali quindi se avessi un gatto non saprei dove andare adesso sicuramente supermercato però un negozio specializzato che fornisce prodotti specializzati non saprei dove andare quindi comprerei sicuramente su uno dei soliti portali famosi pensavo praticamente che ci fosse un negozio allora ragazzi adesso mi giro vi faccio una sorpresa una bellissima sorpresa eccola qua ecco a voi un po' in controluce la torre antiaerea la torre antiaerea trasformata in acquario e giardino della biosfera guardate esistono sia qua in austria e a vienna che a berlino all'interno c'è un acquario andiamo più vicino e facciamo delle riprese senza controluce ciao belli